Dopo l'iniziativa dell'anno scorso del Galà della Lirica torniamo ad Isola del Gran Sasso con una serie di eventi programmati nel territorio di quel comune, in luoghi montani e soprattutto nei boschi. Quindi musica dal vivo, acustica, quindi per salvaguardare anche il benessere della fauna, quindi senza violentare il territorio. Ogni evento musicale sarà anticipato da una breve escursione anche per quelli che non sono abituati a camminare tanto per arrivare al luogo del concerto che solitamente è un luogo non raggiungibile con una macchina, quindi con l'auto. Quindi per forza bisogna camminare e di questo ringraziamo molto la collaborazione del CAI che ci sarà un grosso supporto da questo punto di vista. Una bella soddisfazione grazie a Iacone. Iniziamo il 19 da Piazza Guglielmo Marconi con il maestro Schicchi e poi avremo una serie di concerti itineranti su tutto il territorio, territorio del parco. Abbiamo chiesto anche il permesso al parco, saranno davvero chicche di arte e musica d'autore. Grazie a tutti.